se non procedo 750 km sul livello del mare e dice se trova in una sprendita posizione panoramica in mette giornate limpide è possibile intitruire l'etaca a no l'izontro vado a letta altra la spussata guardate l'etaca spustata La città si è affermata ormai come una delle principali mete turistiche siciliane, il clima è teppicamente metterraneo, ma in considerazione dell'attitudine è particolarmente freddo in inverno, quanto non è insolito che la città è l'intera, al cima del monte, sia una botta in un vito sotto in nebbia, in estate diventa piacevole ma sempre bene buttate con sé un maglione. Ora continuiamo la nostra escursione nel castello, al momento che me lo ricordo, nel castello Peppoli, continuiamo la nostra ricerca del castello Peppoli. Poi dopo visiteremo il castello di Venere, quello lì che si trova un po' sul nostro sistema sinistra. Dove si facevano le cose, le trombate, la prostituzione, le prostitute andavano, plegavano a Venere e poi facevano un... ...e noi continuiamo la nostra città. E continuiamo la nostra città per scrivere Peppoli. Siamo da Siamo Fetere, questo castello di epoca non manna. Grazie professoressa per avermi prestato la vostra pulita. Questa è se lei cosa ha da dire. Abbiamo un'ottima guida che ci ha illustrato perfettamente. Locale. Soprattutto locale. Grazie. 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 Grazie a tutti.